c'è sempre di bolina, ci sono 18 nodi andiamo via tranquilli è tutto a posto se non che ho questa manovella che mi dà sempre dei problemi la metto dove vorrei io e dopo quando torno è da un'altra parte ma dico io ma sarà mai possibile? vabbè insomma comunque se non fosse per la manovella andrebbe tutto bene adesso la metto giù